Dal Vangelo secondo Luca Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Gloria a te, o Signore In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al Tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé. «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto, dicendo «O Dio, abbi pietà di me, peccatore!» «Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». Il passaggio del Vangelo, secondo Luca, racconta la parabola del fariseo e del pubblicano, un insegnamento fondamentale di Gesù che mette in luce la questione dell'umiltà e della giustificazione davanti a Dio. In questa parabola, Gesù descrive due uomini che salgono al Tempio per pregare. Uno è un fariseo e l'altro un pubblicano, o esattore di tasse. Il fariseo si pone in piedi e prega ringraziando Dio per non essere come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, o anche come il pubblicano. Afferma di digiunare due volte alla settimana e di dare la decima di tutto ciò che possiede. Il pubblicano, invece, sta in piedi a distanza, non osa neanche alzare gli occhi al cielo, ma si batte il petto, dicendo, «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Gesù conclude la parabola affermando che è il pubblicano e non il fariseo a tornare a casa giustificato davanti a Dio. «Poiché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato». Questa parabola ci insegna l'importanza dell'umiltà e della consapevolezza della propria peccaminosità nel rapporto con Dio. Gesù critica l'atteggiamento del fariseo che, fidandosi delle proprie opere e del proprio rispetto esteriore della legge, si esalta davanti a Dio e disprezza gli altri. Al contrario, il pubblicano, consapevole delle proprie mancanze e della propria necessità della misericordia divina, si approccia a Dio con umiltà e contrizione e per questo viene giustificato. La lezione fondamentale di questa parabola è che la giustificazione davanti a Dio non si ottiene attraverso le opere esteriori o l'autogiustificazione, ma attraverso un cuore umile che riconosce il proprio bisogno della grazia e della misericordia di Dio. Che la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con voi tutti. Possa l'umiltà del pubblicano guidarvi nelle vostre preghiere, ricordandovi che è nel cuore contrito e umile che Dio trova la sua dimora. Possiate voi camminare nella luce della verità di Cristo, vivendo ogni giorno in un modo che rifletta la vostra fiducia nella sua misericordiosa giustizia piuttosto che nelle vostre opere. e nella vostra umiltà possiate trovare la grandezza del Regno di Dio. Che questa benedizione vi rafforzi, vi conforti e vi guidi verso una fede profonda e sincera, che non cerca segni esteriori, ma si radica nella verità del Vangelo, che ci insegna ad amare, perdonare e servire gli altri come se stessimo servendo lo stesso Cristo. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.